Sono Alessandro Rocca, Politecnico di Milano e sono qui a presentare un progetto di un cluster che stiamo realizzando dentro il quartiere di Expo 2015 a Milano. Un progetto fatto con gli studenti del Politecnico di Milano, del Moscow Architectural Institute e la Parsons School di New York e che poi abbiamo sviluppato insieme con l'architetto Franco Tagliabue fino al definitivo che oggi è in costruzione. Il cluster cereali che si trova nella parte sud del quartiere di Expo. Dunque è un progetto di architettura, quindi abbiamo lavorato noi architetti sulla parte architettonica. Però c'è stato un contributo molto importante che sarà molto importante di alcuni professori della scuola di Agraria dell'Università Statale di Milano che sviluppano tutto il tema del museo dell'agricoltura, della mostra dell'agricoltura che noi mettiamo nella parte centrale del nostro cluster dove verranno esposte tutta una serie di piante comuni e di piante rare da tutto il mondo che appartengono ai cereali.